ebbene sì direttamente dallo spazio la nostra Elena non sei dello spazio ma è qua con noi allora cara Elena per tutti i telespettatori della TG Events che consigli gli darai? oggi parliamo ovviamente per trucco visto che sono make up di tutti i VIP ma non solo oggi vi scopro trucco estate con tanti colori esplosivi adesso venite con me che vi faccio scoprire subito come trucco la mia modella dai dai venite ragazzi siamo stati chiusi troppo tempo a casa quindi il mio consiglio per estate 2021 un make up molto vivace tutto arcobaleno quindi dovete usare tutti i colori non avete paura ed ecco qui la bellissima Elsa modella per un giorno e pronta per una festa in spiaggia estiva con un make up fantastico ma Elena anche un suggerimento per me e per tutti i maschietti come me che hanno magari pochi capelli qua certo perché nel mio studio potete venire a effettuare il trattamento tricopegmentazione quindi Andrea cosa aspetti vieni da me e allora con i capelli lunghi fino ai piedi andrea evans per dg evans grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti